e conquistarti all'interno del cinema è buono, è un po' di salve non ho l'ultimo domandico no, è paura non lo dai paura no ah, posso finire qualche cosa? chaffè 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 prego, mi dico una cosa in mano a me due grazie dopo, dopo, segna come lo sei facci delle vinte o tre ti ho portato con la propria cosa e sei per propria cosa chaffè 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 penso che dopo questo devo conquistare ma chi? giro ma comunque oggi sono qui ci affiante nuovo sono tutti cambiati buono, guarda, comunque dopo questo film che ne dice andavo a prendere un caffè E' meglio è nato rotto Ma no, che ho fatto a casa mia? Perché non puoi la caccia? No, perché non puoi la luccia